Il progetto per il recupero dello storico monastero delle Beata Antonia su Via Sasse e Via Sallustio è tra i 12 progetti approvati dall'Aggiunta Comunale nei giorni scorsi, finanziati con il fondo complementare del PNRR. La riscoperta della facciata dopo la demolizione del Palazzo Davanti, che era un vecchio studentato, ha riacceso il dibattito in città, con le persone che vorrebbero la facciata sempre scoperta senza ricostruire il Palazzo Davanti, idea lanciata anche dal consigliere comunale Lelio De Santis. Questo Palazzo delle Suore, in sostanza realizzato in maggio negli anni 50-60, ha ostruito la visione, ha impedito il godimento di questo bene. Ora, visto che è stato demolito, bisogna trovare una soluzione d'accordo con le Suore e il Comune può fare, può decidere al riguardo per evitare che venga ricostruito e che una volta invece rimesso a posto il monastero, questo sia effettivamente visibile da qui. Al posto di questo Palazzo delle Suore, questo studentato, si debba e si possa realizzare un piccolo parcheggio oppure un'area verde, cioè un'area fruibile perché in questo tratto di strada centrale praticamente non c'è nulla, nessun angoletto, nessuno spazio per giovani e anziani è veramente, sarebbe un'ottima cosa. Io ho attivato gli uffici del Comune, il Presidente della Commissione Rocci, abbiamo convenuto di fare nei prossimi giorni una specifica commissione territorio-urbanistica con i tecnici, con i progettisti, con il direttore, il dirigente del settore per vedere qual è la strada migliore per evitare questa ricostruzione. E intanto i lavori di consolidamento dello storico edificio potrebbero partire in tempi brevi perché provveditorato alle opere pubbliche ha già avviato la procedura negoziata che è più veloce snella rispetto alla gara di appalto tradizionale per un importo complessivo di progetto di 4,6 milioni di euro, 3 milioni di euro per i lavori veri e propri. Ci sono però diversi step perché la parte in cui agisce il provveditorato è quella che dà su via Sassa con annessi chiese e portico mentre la parte che confina con via Sallustio che prima del sisma era uno studentato di proprietà delle sue reclarisse rientra nella ricostruzione privata. Ci sono insomma due unità strutturali distinte. All'interno del monastero, oggetto di opere provvisorie di messa in sicurezza nel doposisma non ci sono più gli arredi che sono stati rimossi per essere al sicuro, come alcuni affreschi. Dal punto di vista storico l'edificio è molto importante. fu fondato nel 1349. La chiesa fu costruita ex novo mentre l'ospedale che fu ricovero per i poveri all'epoca andò a sfruttare in parte un edificio costruito molto tempo prima.